ciao ti sarà capitato di sentire delle persone attorno a te e magari può darsi anche che tu lo faccia di dire non posso non posso non posso fare questo non posso fare questo non posso scegliere questa cosa ti è capitato inizia a pensarci un attimo in realtà quando una persona magari tu stai usando questa frase non posso stai mentendo a te stesso perché perché non è vero che tu non puoi noi possiamo sempre noi stiamo sempre scegliendo ogni cosa che noi facciamo nella nostra vita la facciamo per una scelta magari non è la scelta che noi vorremmo fare ma è la scelta che facciamo perché perché ci fa comodo in qualche modo fai attenzione a questo passaggio nel momento in cui noi diciamo non posso ci stiamo togliendo la responsabilità di fare una scelta diversa ok nel momento in cui noi diciamo non posso in realtà stiamo mascherando questo tipo di frase vorrei fare un'altra cosa vorrei fare un'altra scelta ma non la faccio perché perché non sono pronta a pagare le conseguenze della scelta che vorrei fare perché nel momento in cui tu scegli qualcosa che ti sembra che possa scontentare qualcuno magari deludere le aspettative di qualcuno o in qualche modo andare in una direzione diversa da quella che reputi quella più comune quella più accettata dal mondo intorno a te hai paura magari di essere giudicato di essere la delusione agli occhi di qualcuno e quindi questo che cosa che cosa ti dice ti dice che comunque tu in qualche modo sei in balia del giudizio delle altre persone hai paura di non essere amato per quello che sei per quello che è importante per te e in questo modo cosa fai rinuncia alla tua vita dicendo non posso ma non è vero che non puoi ricordati sempre che tu stai scegliendo sia che tu stia scegliendo consapevolmente sia che tu stia dicendo non posso sia che tu si sia fermo e bloccato e non stia apparentemente facendo nessuna scelta perché questo perché nel momento in cui tu sei una persona con una volontà un cervello qualsiasi cosa tu stia facendo è un'azione un'azione una non azione tu scegli di scegliere scegli di non scegliere scegli di fare quello che vuoi o scegli di fare quello che vogliono gli altri o quello che gli altri si aspetterebbero da te quindi tu stai sempre scegliendo quindi per cortesia togliti dal ruolo di vittima e riprenditi il ruolo di protagonista nella tua vita se non sei ancora pronto a fare le scelte migliori per te allora cambia almeno il linguaggio il cambiamento di linguaggio ti rende più consapevole più consapevole di quello che stai facendo nella tua vita se tu al posto di dire non posso cominci a dire a te stesso sto scegliendo questa cosa perché non sono pronto a sopportare le conseguenze che deriverebbero dallo scegliere quello che mi farebbe felice e te lo dici uno te lo dici due te lo dici tre dopo un po di tempo comincia a dire ma se io sto scegliendo qualcosa che non mi rende felice magari potrei anche scegliere qualcos'altro e questo attiva dentro di te una consapevolezza che se tu continui ad utilizzare quella quella frase non posso non si attiverà mai perché ti stai trovando una scusa tra l'altro stai anche mentendo a te stesso come puoi trasformarti trasformare la tua vita se continui a mentire a te stesso quindi smettila di mentire a te stesso smettila di usare delle frasi che tra l'altro non corrispondono a verità e comincia a raccontare a te stesso la verità e a dire a te stesso io sono troppo succube del giudizio degli altri dipendo troppo dal fatto che gli altri mi debbano amare a tutti i costi che devo per forza piacere alle persone che mi circondano per cui scelgo di sacrificarmi ok in questo modo dopo un po comincerai a cambiare ovviamente ti suggerisco di utilizzare la divine connection per andare a lavorare su tutti questi punti molto critici e anche soprattutto sul tuo beneficio secondario perché qui è bello chiaro il beneficio secondario di non fare le scelte migliori per te di non fare le scelte che ti renderebbero più contento più leggero ti farebbero sentire più in pace anche semplicemente rispetterebbero maggiormente i tuoi gusti e questo nasconde il beneficio proprio di non scontentare le altre persone di non essere mal giudicato di essere accolto dalle altre persone ma ricordati bene che le persone che ti amano davvero ti ameranno e ti accoglieranno per quello che sei non per quanto tu possa fare quello che loro desidererebbero o desiderano un abbraccio di luce e al prossimo video ciao se il video ti è piaciuto lasciami un like e vai sul canale youtube patrizia 7 educati e iscriviti